Si è tenuta a Palazzo Lascaris la conferenza stampa di presentazione dei nuovi investimenti previsti dal comune di Bardonecchia per il potenziamento di impianti sportivi e strutture. E' stato annunciato in particolare un accordo triennale con Disney Italia, che porterà nella cittadina montana l'animazione dei personaggi cari ai bambini. E' poi stato illustrato per i prossimi anni un piano di investimenti da 12 milioni di euro per lo sviluppo turistico del comprensorio.